Si riparte da Cascia, Auteri, Aprile e Cassia. Il Bari ha definito ritiro e staff per la stagione che è partita con il Raduno e i primi test per ottemperare al protocollo Covid. La squadra è a Bari dove svolgerà i primi esami necessari per raggiungere l'Umbria e cominciare gli allenamenti di gruppo. La truppa di mister Auteri sarà lì dal 27 agosto all'8 settembre dove svolgerà la preparazione fisica in altura e le prime sgambate. Il tecnico siciliano ha definito anche il suo staff. L'allenatore in seconda sarà Loreno Cassia, da sempre suo fedelissimo, il preparatore dei portieri Luca Aprile, ex numero uno del Palermo e papà di Roberta che fino a due anni fa ha difeso i pali della Pink Bari. Si prospetta invece un cambio di ruolo per Roberto Mauro Antonio, il preparatore dei portieri della passata stagione e dovrebbe diventare un collaboratore del direttore sportivo Giancarlo Romairone che nel frattempo continua a lavorare in maniera incessante per dare al tecnico le giuste garanzie per affrontare una stagione di vertice. Il mercato dura fino al 5 ottobre e si procederà valutando ogni situazione per definire i 22 che poi andranno a comporre la rosa definitiva. Serve un rinforzo per reparto a cominciare dall'attacco dove sono stati avviati i contatti con il classe 97 Scuola Torino e Leonardo Candellone negli ultimi due anni a Pordenone. Seppur giovanissimo Candellone ha già vinto la Serie C con i Ramarri nel 2018-2019 mettendo a segno ben 14 reti. In uscita Cupis piace in Serie B e dopo l'avventura di Trapani potrebbe lasciare nuovamente il capologo per misurarsi con la Serie Cadetta.